In Italia sono circa 4 milioni le persone affette da osteoporosi, una malattia difficile da riconoscere. La tendenza all'allungamento della vita media e all'invecchiamento delle popolazioni, in mancanza di seri interventi di prevenzione, potrebbe determinare nei prossimi decenni un aumento significativo dei casi. Di questo e di tanto altro se ne è parlato a Catanzaro, presso la Cittadella Regionale, in occasione del quinto corso di aggiornamento organizzato dal dottor Vincenzo Polimeni di Reggio Calabria, dalla dottoressa Anna Milieni di Trebisacce e dal dottor Giuseppe Roccia di Chiaravalle, in prossimità della giornata mondiale dell'osteoporosi, partendo dalla fisiopatologia al corretto percorso clinico al trattamento. Al convegno medico di rilevanza nazionale è intervenuto anche Riccardo Fatarella, dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, che si è soffermato sull'importanza di fare prevenzione. La cosa che dobbiamo fare, stiamo facendo, è proprio di dare più importanza alla prevenzione e alla diagnosi precoce di tante malattie. L'osteoporosi è una di queste, colpisce non esclusivamente ma prevalentemente le donne e la Regione, forse non tutti lo sanno, ha costituito una decina di giorni fa un comitato per la medicina di genere, composta da donne medico, donne dipendenti, professioniste di altri settori, perché la medicina di genere sarà la chiave di volta del rinnovamento del servizio sanitario regionale. Meno economia e più qualità di assistenza. Rossella Galati per la C News 24